Melville Parecchio tempo fa, non importa dir quanto esattamente, lasciai ormai vecchio la campagna per andare a vivere in città, avendo inaspettatamente ereditato un vecchio palazzo in una stretta via di uno dei rioni bassi, una volta molto alla moda e pieno di allegri salotti e camere nuziali, in gran parte rimpiazzate adesso da uffici e magazzini, di modo che balle e casse di mercanzia usurpano il posto dei sofà e che giornali e registri vengono aperti dove una volta si imburravano deliziosi toast per la colazione, tramontati ormai in quei vecchi palazzi i giorni gloriosi delle morbide cialde. Tuttavia, in questa mia vecchia casa, così stranamente conservata, sopravvivevano tuttora alcuni monumenti di quei tempi scomparsi. Nella mia era la sola. Tra i magazzini si erano in parte conservate alcune altre dimore. La trasformazione della strada non era ancora completa, come quei vecchi frati e quelle monache d'Inghilterra che non sapevano staccarsi dalle rovine dei loro conventi, anche dopo che ne erano stati cacciati. Così alcuni pochi, vecchi gentiluomini ed ame ancora si attardavano in quei paraggi e non volevano, non potevano, non avrebbero potuto abbandonarli. E io pensai che, quando, un bel giorno di primavera, fossi emerso dal mio giardino pieno di bianchi fiori e a quella popolazione in declino avessi dato l'apporto dei miei capelli bianchi e del bianco pomodavorio della mia mazza, quelle povere vecchie anime avrebbero falsamente immaginato che il quartiere stesse riprendendosi, che stava tornando di moda. Per molti anni la vecchia casa era rimasta inabitata. Le persone, per le cui mani era di volta in volta passata, l'avevano affittata a poco stabili inquilini, vecchi caduti in rovina, misteriosi reclusi o stranieri transitori ed ambigui. Mentre, per certe volgari migliorie, a cui era stato sottoposto l'esterno, come la rimozione di un vecchio e nobile porticato simile a un pulpito che coronava la sommità di sei maestosi scalini ed era sormontato da un maestoso cielo che faceva piovere la sua ombra sul tetto, la sostituzione delle originali e greve imposte, ciascuna intagliata nella parte superiore da una mezzaluna che ammetteva un orientalraggio di sole quasi lunare nelle stanze altrimenti buie, anche in una solatia mattina di luglio, con deplorevoli persiane. Mentre, ripeto, la facciata della casa presentava in tal modo un aspetto incongruo, come se questo innesto di modernità non avesse attecchito sul vecchio ceppo, l'interno, quale si fosse l'aspetto esterno, era mutato poco o nulla. Le cantine erano piene di grandi e sinistre nicchie, con volte di mattoni anneriti, che facevano pensare alle antiche tombe dei Templari, e in alto lasciavano scorgere le travi del pian terreno, grosse, squadrate, massizze, di una querza rossastra che aveva acquistato, per la lunga età, un deciso colore da pelle rossa. Così massizze erano quelle travi, e così fitte, che a camminare per quelle capaci cantine si aveva l'impressione di trovarsi sul ponte di batteria di una vecchia nave da guerra. Tutte le stanze, a ciascun piano, erano rimaste esattamente quali si presentavano 90 anni prima, con tutte le loro tre beazioni di legno pesantemente modellato, la rivestitura di pannelli e le scolpite mensole inaccessibili, ricche di strane imprese orticole zoologiche. Scialbe, per la lunga età, le stesse tappezzerie ancora conservavano i disegni che risalivano ai tempi di Luigi XVI. Nella sala più grande le mie figlie la chiamavano Salone per distinguerla da due più piccoli salotti, sebbene io non ritenessi indispensabile si fatta distinzione, le carte da parato erano quanto mai sgargianti e variopinte. Capimmo subito che carte si fatte potevano essere state importate solo da Parigi, e si trattava di genuina tappezzeria di Versailles, il tipo che probabilmente aveva ornato il boudoir di Maria Antonietta. Era divisa in grandi rombi, delimitati da massicci festoni di rose. Alla servetta biddi sembravano cipolle. Ma mia moglie non tardò ad illuminarla su quel punto. E in quei rombi, dal primo all'ultimo, come in una complicata e fastosa gabbia di giardino, era appollaiata una splendida serie di magnifiche illustrazioni di storia naturale, costituita dai più vistosi uccelli di stile parigino, pappagalli, aree e pavoni, ma soprattutto pavoni, veri principi esterasi, piumati, sfavillanti di rubini, diamanti e delle insegne del toson d'oro. Ma, ahimè, la parete settentrionale di questa vecchia sala aveva un'aria ben strana. Mezzo ammuffita, mezzo mangiata dall'umido, faceva pensare al lato settentrionale dei vecchi alberi nelle foreste, a quella parte cui il muschio aderisce in modo speciale e che si dice sia la prima a corrompersi. In breve, l'originale fulgore dei pavoni era stato mestamente offuscato sulla parete settentrionale della stanza a causa di una piccola perdita della grondaia, dalla quale la pioggia era lentamente filtrata giù per il muro, sino al piano terreno. Questa perdita, gli irriverenti inquilini, che in quel tempo occupavano la casa, non pensarono di farla riparare, o meglio, non ritennero ne valesse la spesa, dato che essi usavano il salone dei pavoni solo per riporvi legna da ardere e far asciugare il bucato. Perciò, molti di quegli uccelli, una volta così splendenti, sembrava avessero ricevuto sul loro principesco piumaggio una pioggia di cenere. Le loro stellanti coda erano state miseramente danneggiate, eppure parevano disposti a sopportare il loro melanconico destino con tanta pazienza e allegria e qui e là tanta vivacità. Circonfondevano la loro forma di così genuina eleganza, sembravano ancora così pieni di una dolce e affascinante pensogità, costretti come erano stati a meditare tutto il giorno per anni e anni tra quegli scialbi festoni. Che, sebbene la mia famiglia ripetutamente mi pregasse, specialmente mia moglie, che, ben temo, era un po' troppo giovane per me, di distruggere tutto quel pollaio, come lo aveva definito Biddy, e di coprire le pareti con una bella e distinta carta color crema, tutte queste suppliche non erano valse a smuovermi, per remissivo che fossi in tante altre cose. Soprattutto non potevo permettere che venisse violato il vecchio salone dei pavoni o la sala delle rose, usavo i due nomi, perché per me era stato a lungo associato a uno degli antichi proprietari del palazzo, il gentile Jimmy Rose. Povero Jimmy Rose, fu una delle mie prime conoscenze. Non sono trascorsi molti anni da quando è morto e io e altri due tentennanti vecchi fummo gli unici a salire su una carrozza e ad accompagnarlo al cimitero. Jimmy era nato con una modesta fortuna. Nella sua prima giovinezza era stato d'una bellezza fuor dell'ordinario, un personale robusto, virile, luminosi occhi azzurri, capelli bruni arricciati e guanze che sembravano dipinte da un carminio che era il genuino colore della salute, reso più intenso dalla gioia di vivere. Per natura era un gran favorito delle signore e, come la maggior parte dei sinceri adoratori del bel sesso, non aveva mai ristretto l'orizzonte del suo culto generale col volontario sacrificio di se stesso sull'altare. Avendo aumentato la sua fortuna con ardite e magnifiche imprese commerciali che potevano far pensare a quelle di quel gran mercante fiorentino che fu Cosimo il Magnifico, era stato ben presto in grado di vivere senza sfarzo. Per lungo tempo i suoi pranzi, le cene, i balli non erano stati sorpassati da nessun altro offerto nella città di New York così nota per i suoi ricevimenti. La sua straordinaria allegria, l'eleganza dei suoi abiti, il suo scintillante brio, i candelabri razzanti, l'abilità di parlare di tutto con tutti, i mobili francesi, il cordiale benvenuto dato agli ospiti, il suo cuore generoso e la sua tavola più generosa ancora, le sue nobili grazie e i suoi vini gloriosi. Come stupire che tutte queste virtù attraessero intere folle all'ospitale palazzo di Jimmy? Nelle assemblee invernali era sempre il primo sulla lista degli invitati. James Rose Esk era la persona che si trovava in prima fila quando si doveva offrire un vassoio a qualche attore che avesse avuto molto successo al parco o la spada d'onore o un paio di pistole a qualche generale che avesse avuto molto successo sul campo di battaglia. Sovente anzi veniva scelto a presentare il dono per il dono che gli possedeva di dire elegantemente alcune frasi eleganti. Generale le chiarò una volta in un grande salone di Broadway nel presentare un paio di pistole incastonate di turchesi al generale G. Generale disse Jimmy con un inchino da nomi l'espagnolo e un rosio sorriso sulle labbra. I turchesi sarebbero stati in numero ben maggiore se i nomi delle vostre gloriose vittorie ci avessero lasciato maggior spazio. Ah Jimmy Jimmy come sapevi farli bene i complimenti ma era insito in tutta la tua più intima natura di essere generoso in tutte le cose che possono dar piacere e chi potrebbe rimproverarti d'avere in quella occasione preso in prestito quella tua frase. Per quanto inclini ai plagi in ogni campo non capita sovente che gli uomini si plagino per lodare i loro simili ma i tempi mutarono il tempo e tanto si diletta a plagiarle stagioni improvvisi e terribili rovesci divennero fatali per la tua pazza prodigalità in ogni senso quando si dovette esaminare la sua situazione si trovò che Jimmy non era in grado di pagare più di 15 scellini per sterlina eppure col tempo avrebbe potuto colmare la differenza naturalmente restando senza più un soldo se durante una burrasca invernale due sue navi che erano salpate dalla Cina non fossero affondate a largo di Sandy Hook cioè proprio mentre stavano per entrare nel porto questo determinò il crollo è storia di tanti anni fa a quel tempo io vivevo in campagna ma in quel fragrante mi trovavo in città per una delle mie solite visite autunnali quattro o cinque giorni prima avevo visto Jimmy a casa sua il centro di tutti gli sguardi e verso la fine della festa avevo sentito il brindisi che ancora ricordo pronunciato da una dama imbroccato al nostro nobile anfitrione e possan le rose fiorirgli sulle guanze finché gli fioriranno nel cuore e tutte le gentili dame e cavalieri presenti tutti avevano brindato gaiamente e sinceramente al loro anfitrione e Jimmy aveva gli onesti occhi pieni di gentili grate con piaciute lacrime e angelicamente volgeva lo sguardo su quei volti scintillanti e sulle caraffe parimenti scintillanti parimenti commosse ah povero povero Jimmy che Dio ci scampi povero Jimmy Rose ebbene non erano trascorsi quattro o cinque giorni quando di uno schianto di tuono no di cattive notizie stavo attraversando il bowling rig in una bufera di neve non lontano dalla casa di Jimmy sulla battery quando vidi avanzare gaiamente un signore che ricordavo ad aver notato al tavolo di Jimmy il primo a balzare in piedi ansioso di partecipare al brindisi di quella dama e in quella felice occasione il vino nella sua coppa sollevata non scintillava più delle lacrime nei suoi occhi ebbene questo degno signore attraversava rapido il bowling green brandendo un frustino dal manico d'argento quando vedendomi si soffermò ah ragazzo prezioso vino ci ha offerto Jimmy l'altra sera peccato che non ne berremo mai più avete sentito la notizia Jimmy è fallito rovina completa vi assicuro venite con me al caffè e vi racconterò tutto e se ci state potremmo combinare ad andare stasera slitta a bere una bottiglia di vino ad accato venite grazie risposi io ma ma ho già un altro impegno rapido come una frezza mi recai da Jimmy avendo chiesto di lui al servo che mi aprì la porta questi mi disse che il padrone non era in casa che non sapeva dove si trovasse e che erano 48 ore che non lo vedeva ritornato su Broadway cercai informazioni dai conoscenti che incontravo ma sebbene tutti mi confessassero la notizia del fallimento nessuno sapeva dirmi dove si fosse cacciato Jimmy nessuno pareva preoccuparsene finché non incontrai un commerciante che insinò che Jimmy essendo probabilmente riuscito a salvare dalla rovina un discreto gruzzolo doveva essersi prudentemente nascosto in qualche angolo fuori mano la persona che subito incontrai dopo era ricchissima ma gli veniva la schiuma alla bocca solo a sentire il nome di Jimmy un mascazzone un vero farabutto a quel Jimmy rosa ma ha della gente coi denti aguzzi alle calcagne più tardi venne a sapere che questo indignato signore aveva indirettamente perduto per il fallimento di Jimmy la somma di ben 75 dollari e 75 centesimi eppure credo di poter affermare che la parte dei pranzi che aveva mangiato a casa di Jimmy avrebbe più che controbilanciato quella somma tenuto presente che era una specie di spugna e che i vini che Jimmy importava non costavano pochi baiocchi anzi adesso che ci penso ricordo che più di una volta avevo osservato questo anziano signore e avevo notato come verso la fine dei pranzi sedesse a tavola pretendendo di essere impegnato in un'animata conversazione col sorridente Jimmy e durante tutto il tempo con una specie di quasi furtiva e tremula avidità e premura si versasse un bicchiere dopo l'altro di quei nobili vini come se dovesse approfittare del momento in cui il generoso sole di Jimmy spandeva i suoi più caldi raggi per raccogliere quanto più poteva finalmente incontrai una persona rinomata per le sue particolari conoscenze di tutto ciò che vi era di più segreto o celato nelle storie e nelle abitudini delle persone celebri quando gli chiese dove mai potesse trovarsi Jimmy egli mi portò vicino alla ringhiera di Trinity Church per sottrarsi agli urti della folla e mi sussurrò che Jimmy la sera prima era entrato in una sua vecchia casa che si trovava in via si la quale vecchia casa da tempo era spigionata nel che pareva si potesse arguire che forse Jimmy vi si trovava tuttora nascosto avuto l'indirizzo preciso mi avviai in quella direzione e finalmente mi fermai davanti alla casa che conteneva il salone delle rose le imposte erano chiuse le ragnatele velavano le mezze lune la casa aveva un aspetto sinistro deserto la neve non era stata spazzata e il vento l'aveva ammucchiata contro il porticato su essa non si scorgeva orma alcuna chiunque si fosse trovato all'interno certo quel solitario era per il momento abbandonato da tutti poche o punte persone per la strada perché già a quel tempo il quartiere non era più di moda mentre il commercio non aveva ancora invaso ciò che il suo rivale aveva abbandonato guardatomi un istante su e giù per il marzapiede diedi un leggero colpo di battente nessuna risposta battei una seconda volta più forte non venne nessuno allora oltre a battere tirai anche il campanello sempre senza alcun risultato disperando di potermi far aprire stavo per andarmene quando come ultima risorsa impugnai greve battente e con tutta la mia forza picchiai ripetuti colpi violenti e poi rimasi in ascolto mentre da numerose strane vecchie finestre che si trovavano lungo quella strada numerose strane vecchie teste spuntavano stupite a vedere chi fosse quell'intruso così chiassoso come se infine la paura l'avesse stanato dal suo silenzio una cupavoce sorda parlò attraverso il buco della serratura chi siete chiese quella voce un amico e allora non potete entrare rispose quella voce in tono anche più sepolcrale di prima nel nome del cielo questo non è Jimmy Rose mi dissi io con un sobalzo si vede che ho sbagliato casa che mi hanno dato un indirizzo errato ma tuttavia per eliminare ogni dubbio chiesi parlo con Jimmy Rose nessuna risposta io continuai sono William Ford lasciatemi entrare no non posso non posso ho paura di tutti era Jimmy Rose lasciatemi entrare Rose lasciatemi entrare sono un vostro amico no non posso più fidare in nessuno adesso lasciatemi entrare Rose fidate almeno di uno in me andatevene subito altrimenti e udì tintinnare contro la grossa serratura qualcosa che non era una chiave e sarebbe detto che un piccolo tubo venisse introdotto nel buco della serratura allora atterrito fuggì quanto più velocemente mi fu possibile era un giovanotto allora e Jimmy non poteva avere più di 40 anni lo rividi dopo 25 anni che cambiamento era intervenuto quelli che mi aspettavo di trovare se avessi avuto la fortuna di trovarlo ancora magro rinsecchito contratto avvelenato dalla miseria e dalla misantropia stupore le antiche rose di Persia continuavano a fiorire le sue guance eppure povero come un topo poverissimo povero più dei miserabili che vanno a finire in un ospizio di carità un povero che passeggiava in un abito liso conservato con estrema cura un povero con un'unica ricchezza di parole eleganti un gentiluomo cortese sorridente che era brevidiva di freddo e di fame ah povero povero Jimmy che Dio ci scampi povero Jimmy Rose sebbene al primo assalto della sua sventura quando i creditori una volta suoi intimi amici si erano messi a dargli la caccia come a un'arnese da forca sebbene allora per sottrarsi alla loro caccia così come per fuggire agli occhi della gente fosse scappato e si fosse chiuso nella vecchia casa abbandonata e colà nella solitudine fosse quasi impazzito tuttavia il tempo e le stagioni l'avevano placato l'avevano ricondotto alla saggezza forse in fondo in fondo Jimmy era troppo sinceramente buono e gentile per poter divenire quale ne fosse la causa un misantropo e senza dubbio dovette infine sembrare addirittura empio a Jimmy evitare l'umanità talvolta un delicato senso del dovere condanna un amaro destino chi mai infatti avrebbe potuto essere più amaro che venir visto adesso in abietta povertà da coloro anzi non solo visto ma dover strisciare e andarli a visitare umilmente e dover essere tollerato come un vecchio eccentrico che vagabondava per i loro salotti da quelli che una volta l'avevano conosciuto come il più ricco dei ricchi il re della Letizia eppure è questo che Jimmy faceva senza averlo schiantato sul colpo il fato era riuscito lentamente a piegarlo sempre più a spingerlo sempre più in basso la fonte ignota riceveva una somma annua di circa 70 dollari ma egli non voleva intaccare il capitale e in vari modi con varie astuzie riusciva a barcamenarsi con gli interessi viveva in una soffitta e si preparava lui stesso da mangiare non faceva che un pasto regolare al giorno pane e latte e non mangiava altro tranne quello che riusciva ad ottenere dal tavolo degli altri sovente all'ora del tè si recava a far visita qualche sua vecchia conoscenza indossando quel suo lindo e decrepito vestito con delle lise bande di velluto cucite all'orlo dei polsini e qualcosa di simile al fondo dei pantaloni per nascondere il desolante aspetto che avevano di essere stati rosicchiati dai topi la domenica era sua abitudine pranzare sempre in qualche ricca casa è evidente che nessuno avrebbe potuto condurre con impunità simile vita a meno che non venisse considerato persona che immune da vizi fosse stato dalla fortuna spinto così in basso che solo la sonda della pietà poteva ormai raggiungerlo né coloro che lo accoglievano si guadagnavano molti meriti perché non cacciavano di casa l'affamato gentiluomo che veniva per la sua elemosina di una tazza di tè e una fetta di pane imburrato qualche merito avrebbero potuto procacciarsi qualora si fossero associati insieme e con scarsa spesa per loro gli avessero offerto una rendita sufficiente a metterlo in grado di non dover ricorrere alla loro quotidiana carità e una carità che non gli veniva mandata a casa ma che doveva meritarsi arrancando sino alla loro porta ma la cosa più commovente erano quelle sue rose e guance quelle rubizze rose nel suo invernale gelo come fiorissero se farle fiorire fossero le scodelle di pane e latte o la tazza di tè e la tartina imburrata o se egli adesso si tingesse per quale strana magia riuscissero a fiorire così nessuno al mondo era in grado di dire ma fiorivano sempre e oltre alle rose Jimmy era pieno di sorrisi sorrideva continuamente l'altezzosa porta che lo lasciava entrare per l'eremogena del tè non conosceva altro ospite sorridente come lui nei giorni della prosperità il sorriso di Jimmy era stato proverbiale ma avrebbe potuto esserlo dieci volte di più adesso ovunque si recasse per il tè era sempre in grado di comunicare le ultime notizie frequentando le sale di lettura come persona privilegiata perché assolutamente innocua si teneva informato degli affari europei e delle ultime novità letterarie tanto straniere che domestiche su questi argomenti quando riceveva qualche incoraggiamento parlava con abbondanza ma non gli capitava sempre di venire incoraggiato in certe case e non erano poche Jimmy si presentava dieci minuti circa prima dell'ora del tè e se ne andava dieci minuti dopo ben sapendo che la sua ulteriore presenza non era indispensabile né al benessere né alla felicità dei suoi ospiti che spettacolo triste vederlo bere con tanta avidità il generoso tè una tazza dopo l'altra e divorare le profumate fette di pane imburrato mentre gli altri sia perché avevano decinato tardi o mangiato con abbondanza quel pasto solenne nemmeno toccavano le tartine e non riuscivano ad assorbire che una singola tazza di shushong ben conscio di questo il povero Jimmy cercava di nascondere il suo appetito e al tempo stesso di soddisfarlo conducendo una vivace conversazione con la padrona di casa e ingollando gli avidi bocconi con una sorta di aria sbadata come se mangiasse così per abitudine e non perché morto di fame povero povero Jimmy che Dio ci scampi povero Jimmy Rose ma non che Jimmy avesse rinunziato ai suoi modi galanti ogni qualvolta vi fossero signore a tavola e se erano sicure di ricevere qualche frase elegante sebbene verso il termine della sua vita le giovani donne trovassero i suoi complimenti un po' stantii facevano pensare ai tricorni e ai calzoni corti anzi ai galloni e ai cinturini per sciabola che si trovano dai rigattieri infatti dal portamento di Jimmy ancora traspariva un timido ricordo di arti marziali nei suoi giorni felici essendo stato tra l'altro un generale della milizia dello stato sembra che una specie di fatalità si accanisca contro quanti hanno ricoperto quella carica ahimè ricordo di aver personalmente conosciuto due o tre signori che dopo essere stati elevati a quel fastigio caddero in estrema miseria non ho il coraggio di immaginare come mai le cose stiano così che questa tendenza militare in un uomo dal cuore non militare ma anzi gentile e amante della pace riveli una qualche debolezza una qualche inclinazione alle vane pompe eppure dieci volte contro una non è così che stanno le cose e ad ogni modo non è bello forse non è neppure cristiano che i fortunati moralizzino troppo a lungo su quelli che non lo sono le case che Jimmy visitava erano così numerose o egli era così cauto nello spaziare le sue visite meno accette che in certi palazzi non si presentava che una volta all'anno o poco più ed annualmente incontrando in quelle case quei fiori in boccio che erano Miss Francis o Miss Arabella egli sprofondava in quei suoi vecchi abiti lisi tanto deferente era l'inchino e con la stanca mano bianca galantemente stringeva quella della fanciulla ah Miss Arabella questi gioielli come sfavillano su queste vostre dita ma quanto più sfavillerebbero se non fossero fuscati da quei diamanti più fulgidi che sono gli occhi vostri sebbene nella tua estrema miseria non avessi un soldino da dare ai poveri tu Jimmy eri tuttavia in grado di farle lemosina ai ricchi perché il mendicante che trema all'angolo della strada non ha più fame di pane di quanto abbia fame di complimenti un cuore vanitoso i ricchi nella loro avida sazietà i poveri nel loro avido bisogno nessuno è mai contento così ritengo pensava Jimmy Rose ma non tutte le donne sono vanitose oppure se posseggono un granello di quel vizio sanno abbondantemente redimerlo con la loro bontà e tale fu infatti la gentile fanciulla che chiuse gli occhi al povero Jimmy figlia di un opulento assessore conosceva bene Jimmy e provvide a lui negli ultimi giorni della sua vita durante l'infermità che poi lo condusse alla tomba con le sue stesse mani gli portava gelatine e bianco mangiare gli preparava una tazza di tè nella soffitta gli accomodava il letto ma ben te l'hai rimeritato Jimmy di essere assistito dalle mani di quella leggiadra creatura ben te l'hai rimeritato che gli stanchi i tuoi occhi venissero chiusi dalle dita gentili di una donna tu che tutta la vita tra le ricchezze come nella povertà ti eri sempre mostrato il campione l'adoratore delle donne non so dove dovrei menzionare a questo proposito un piccolo episodio connesso con le cure di quella signorina e il modo in cui Jimmy le riceveva ma siccome non farà del male né all'uno né all'altro lo riferirò mi trovavo per caso in città e avendo sentito che Jimmy era malato mi recai a visitarlo là nella sua solitaria soffitta incontrai la leggiadra infermiera ritiratasi non appena vide un altro visitatore essa mi lasciò solo con lui gli avevo recato alcuni cibi delicati e anche parecchi libri del genere che persone serie bene intenzionate usano inviare ai malati quando si trovano in una crisi grave ora gli ripugnasse l'idea di sentirsi considerato come prossimo alla morte o non fosse altro che una naturale irritazione prodotta dalla generale miseria del suo stato il fatto si è che non appena la gentile fanciulla si fu ritirata jimmy con quel poco di forze che ancora gli rimanevano buttò i libri nell'angolo più lontano della stanza mormorando ma perché mai mi porta dei libri così tristi e noiosi mi crede forse un povero crede forse di poter lenire il cuore di un gentiluomo con l'impiastro del povero 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 jimmy che dio ci scampi povero jimmy rose beh insomma anch'io sono vecchio e penso che queste lacrime che verso siano segni del mio rimbambimento ma siano rese grazie al cielo che jimmy non ha più bisogno della pietà di nessuno jimmy rose è morto intanto mentre me ne sto seduto nel salone dei pavoni quello stesso da cui mi era giunta la sua voce sorda e cupa prima che minacciasse con la pistola mi sorprendo talvolta a meditare sullo strano esempio fornito dalla sua vita e mi chiedo come potesse dopo quella sua nobile esistenza così gaia e brillante come potesse adattarsi a strisciar così umilmente a comparire un momento tra i marmi e i mogani per quell'offensiva tazza di tè accompagnata da una fetta di pane imburrato lui che una volta era stato un vero Verwick e aveva offerto alle folle acclamanti autentico borgogna e selvaggine prelibate e ogni volta che contemplo l'offuscato splendore di quei superbi pavoni sulla parete non posso non pensare alla mesta obnubilazione che seguì il maestoso orgoglio che aveva un giorno ammantato il povero Jimmy e ogni volta che contemplo quei festoni di rose perpetue tra le quali pendono gli sbiaditi pavoni non posso non pensare a quelle rose immortali che continuarono a fiorire sulle guance del decaduto Jimmy trapiantato in altro suolo ora che tutte le pene d'un tempo sono obliate possa Dio concedere alle rose di Jimmy di fiorire in perpetuo di fiorire